Amici del calcio elite, buonasera dal centro sportivo Urbe Tevere di Roma. Oggi per la diciassettesima giornata di Serie A, il Borgo Rosso ospita il 7 bagno. Cross a centro area, buco della difesa, attenzione la palla resta lì! Il tiro ribattuto, poi nuova conclusione, blocca Marzia. Si tende solo il fischio dell'arbitro. Il destro di Sticca, Marzia! Alza in calcio d'angolo. Simonetti che è entrato con il numero 17. Simonetti, pallone in area di rigore per il destro, alto di pochissimo di Malvaso. Allarga sulla sinistra per Favarelli, dentro per Virgili, sinistro Marzia. Poi Di Carlo, alleggeri, si invola però da solo. Sulla destra il calcio delle bianconosti, esce Marzia, il grandissimo intervento! Uggeri, rincorso da Codianni, Uggeri, se ne va numero 8. Uggeri, allargato sulla sinistra per Simonetti, il tiro, alto! L'aggancio di Melchiorre, poi Mirza, gran palla sulla sinistra nel rigore, il tiro! Palla fuori! Che occasione per il Borgo Rosso dopo una grande manovra. Romagnoli, spalle alla porta, allargato il pallone per Rocchi, in area di rigore Rocchi, il tiro di Rocchi, alto! Quando mancano 10 minuti al termine, va Uggeri col destro, pallone fuori di pochissimo! Il sinistro di Mirza, la grandissima parata! Poi la c'è la Mella Palo! Venali dentro per Mirza, in area di rigore, Mirza col sinistro! Fuori di pochissimo e calcio d'angolo!